ciao ragazzi salve a tutti e benvenuti ad otopolis ragazzi ha finito la sessione di qualifica del gran premio del messico della formula 1 ed è pole position per max verstappen seconda pole position in carriera entrambi ottenute quest'anno non solo quello ragazzi sennò che max verstappen ne ha fatto una pole con un 1 14 758 il record dell'anno scorso 1 14 759 incredibile ha battuto il record dell'anno scorso per quasi niente dopodiché ragazzi una sessione di qualifica abbastanza abbastanza interessante dai la cosa principale quello che ha colpito un più diciamo così coincidente di bottas all'ultima curva nell'ultimo intento di qualifica una cosa strana ma che può capitare c'è tanta pressione dei bottas che questa l'ultima gara in cui lui può farne qualcosa per evitare che hamilton diventi campione cosa che altamente ragazzi improbabile cosa dice ragazzi il passo gara per domani domani ci dice che la ferrari ne ha una velocità massima elevatissima dovrebbe essere la macchina abbattere per domani vediamo meno come va la cosa ma in teoria andrebbe così la red bulls e la macchina più veloce nelle curve di media velocità invece la mercedes e la macchina più veloce nelle curve che sono ad alta velocità vediamo come va ragazzi a finire per domani che diciamo così credo che sarà una gara abbastanza interessante da vedere allora i risultati primo ma first happen secondo charles leclerc che ha fatto una buona sessione di qualifica tranne per quell'errore magari avrebbe potuto finire davanti un errore nell'ultimo settore nell'ultimo intento di qualifica una pista tra l'altro che non era molto ma molto gommata per la pioggia ma va bene ormai non è male parti in seconda posizione in questo tracciato la velocità massima della ferrari così alta che magari anche meglio dopo di che terza posizione per sebastian bettel quarta posizione per levis hamilton levis hamilton che ora vediamo com'è ma mi sembra che sarebbe molto non credo ragazzi che bottas non riesca a partire sicuramente bottas se ne beccara qualche penalità per me la macchina qualche cosa sicuramente si avrà rotto cambio è molto strano che non si abbia rotto il campo vediamo per me già quasi vinto il campionato per lui quinta posizione per alex albon che bene albon averò non ha finito davvero non male per albon cinque decimi da da verstappen che verstappen è un mostro non è male quindi bene per per lui sesta posizione per bottas che vediamo dove parte domani di nuovo dopo questo schianto dopo quella botta sicuramente ci dovrà dovranno fare qualcosa dopodiché settima posizione per sainz molto bene sainz 11 16 e 0 1 16 e 3 per norris tutti questi piloti ragazzi partono con la media entrambi quindi vediamo come va ma la strategia dovrebbe essere abbastanza simile per tutti loro dopodiché non la posizione per chiviatt decima per gasli undicesima per peres che non ce l'ha fatta per un soffio ad entrare in q3 12esima per hulkember 13esima per ricciardo 14esima per raikkonen 15esima per giovinassi 16esima per stroll 17esima per magnusen 18esima per grosjean e le ultime due posizioni sempre per disgrazia la william che ci si trova in tanta difficoltà non solo questo ragazzi se no che guardate il delta 120 per cubica contro 114 che la pole position sono sei secondi è un delta altissimo praticamente le macchine sembrano di un'altra categoria cosa dire aspettiamo che la williams riesca a migliorare un po' bene vi do qualche news notizia di questa settimana magari notizia interessante che molti di voi non sapevate magari si la reno ragazzi è stato squalificato dal gran premio di suzuka perché utilizza un sistema ha utilizzato un sistema di freni che si regolava automaticamente via gps una cosa strana perché è stato squalificata per una gara ovvero non lo so non devono utilizzarlo più il sistema ma sembra che sia legale la fia ha fatto un casino con questo sistema che non si capiscono nel loro nemmeno loro la realtà dei fatti è che questo sistema l'ha utilizzato la renault in certe occasioni già dal 2015 l'ha detto grosjean quindi gran premio del belgio 2015 mi sembra grossjean è arrivato terzo ha detto che ha utilizzato questo sistema qua quindi bene la fia per la coerenza un'altra cosa ragazzi saltano sembra che saltano le regole del 2021 la data era il 31 di ottobre quindi quasi sicuro non ci sarà nessun consenso quindi queste regole andranno a finire chissà dove cosa cadrà nel 2021 non lo sa nessuno ma realmente ragazzi importa quello che dica la ferrari questa è la realtà dei fatti se la ferrari non piacciono queste regole allora non accadrà niente dopodiché nemmeno la ferrari ripiace nemmeno la red bull nemmeno la mercedes che non vogliono perdere tanto questa cosa dello status quo vi dico un'altra cosa comunque come vada vada non c'è interesse di nessun altro costruttore in entrare nella formula 1 hanno detto già che in queste power unit non voleva entrare nessuno ma comunque le power unit come vada vada continueranno tra l'altro si crede che queste macchine diventeranno almeno tre secondi più lenta quelle macchine del 2021 vediamo come va ragazzi non lo so ci era sono regole molto generiche questa cosa non era buona dopodiché ma per stappen ragazzi che magari non continua più con la red bull e beh questa cosa qua ha detto che non ha firmato in teoria non ha firmato per il 2021 e questo lascerebbe la red bull senza un piano b perché non c'è nessuno che sia tanto forte come lui tranne che per ricciardo vediamo come va a finire la cosa e vediamo come si sviluppa albon perché magari albon si sviluppa bene come volvegas league vediamo per ora questa è una cosa che una preoccupazione della red bull deve migliorare un po di più la onda che tuttavia un deficit di motore dicono che se aggiri intorno al 40 cavalli 45 con la ferrari vediamo come va a finire per ora è tutto ci si vede domani vediamo come va a finire la gara che sembra sarà una gara abbastanza interessante per me domani la ferrari ha una buona buonissima chance di vincere questo gran premio se non ci sono errori di strategie un incidente al via o qualcosa di strano ma vediamo se il tempo accompagna il meteo accompagna questo tracciato in cui la ferrari va davvero molto forte ragazzi in scia c'è da vedere perché magari anche ci si può battere il record di velocità la force india ne è arrivato a 353 km unari queste macchine fanno molta fatica ad arrivarne ad alta velocità perché hanno tantissimo drag paragonato con quelle del 2016 ma vediamo beh ragazzi tutto qua allora niente non mi disturbo di più ci vediamo sicuramente a domani e beh vi saluto se vi è piaciuto questo video date like commentate se avete qualche dubbio e ci vediamo sicuramente a domani saluto a tutti e vi avevo una bellissima giornata ciao ciao